buonasera a tutti oggi ci troviamo sempre sul gioco di su play store e su ios cash friends casino e andiamo a provare questa nuova slot che si chiama maniac dracula prima di provarla però io mi devo un attimo siccome io gioco non sto giocando molto spesso e ora vado a prendere un po di bonus che ci danno quotidianamente qui ci danno pure questo qua prendiamoci pure questo andiamo avanti questo qua ma da 30 milioni peccato che non abbiamo il moltiplicatore peccato va bene fa niente ok perfetto e stiamo avanti allora qua abbiamo l'inbox andiamoci a prendere tutto qua c'è andato 40 milioni collection all ok perfetto 30 milioni ci abbiamo presi andiamo a spedire tutti gli amici i gif cioè i regali caci abbiamo altri 39 ovviamente si sono bei box li vado aprire dopo andiamoci a prendere il regalo di 280 milioni giornalieri che non che non l'abbiamo ancora preso e infine andiamoci a prendere andiamo a prendere qua mi faccio vedere che cosa andiamo a prendere andiamo a prendere no non è questo questo che cos'è colleccio all esatto questo mi dà qualcosa infatti mi dà qualche pass mi dà qualcosa mi dà niente ok chiudiamo qua e andiamo a prendici il aspetta qua no sì l'infinite machines ok andiamoci a prendere l'infinite machines mi raccomando questi sono i regali che comunque vi potete vendere ognuno di voi questi qua andiamoci a praticamente dargli 90 90 diamanti praticamente prendo sempre le foto che ho un po di più vediamolo nel primo album vabbè io di solito tutti a 5 c'ho o a 4 preferisco comunque tenerlo non si sa mai qualche promozione qualche cosa questi sono 5 5 non c'è nessun doppione per adesso niente 2 c'erano poco c'erano 40 allora c'erano 21 qua possiamo ovviamente scendere a 5 ok 5 anche qui ok a qua ce andiamo a prendere qua andiamo a 90 ok start andiamo a spinnare e speriamo che che prendiamo qualcosa di utile la carta torre non l'ho mai presa assolutamente e penso che non sarà neanche il caso di prenderla per poco è per poco la carta torre sono 648 milioni che comunque ci fanno comodo ok perfetto più il quarto album perfetto allora andiamo qua prenderci ok ok va bene e andiamo a provare questa slot vediamo un ottimo mettiamo sempre il nostro obiettivo ottimale 50 milioni però sinceramente non lo vorrei utilizzarli tutti quanti 50 milioni vi dico la verità però si scusate sti 7 miliardi collection qui ok è successo qua va bene va bene blasing desks va bene chiudiamo va bene così andiamoci a mettere i nostri 50 milioni ok e andiamo a giocare vediamo cosa si tratta mi sembra un po come l'altra come si chiama c'è che c'è la mappa fatemi vedere ci sta la mappa qua se io vado a cliccare info infatti le mappe praticamente non so poi che cosa ci ci darà poi in un secondo video vi faccio vedere che cosa ci può dare questa questa slot vediamo un poco ma secondo me questo niente di particolare ok ora metto il giro automatico sperando che per vedere un po mettiamo 500 e e vediamo un poco cosa cosa fa stasolotto allora questo niente ok dopo questo qua secondo me lo dobbiamo andare a collezionare prenderci bonus bonus cosina qua potremmo prendere anche addirittura i 150 miliardi ma quando arriviamo a 250 miliardi ok poi si riempie pure molto molto che succede qua che sta succedendo ok mi sa che abbiamo preso qualcosa eh abbiamo abbiamo tutte queste lune qualcosa da qualche bonus lo dovremmo prendere vediamo un po' cosa cosa ci dà dai pp strella abbiamo 10 free spin ok seleziono una stanza vinci fine a 4 prezzi e allora che stanza andiamo a prendere la stanza dello studio ovviamente vediamo un attimo la stanza dello studio e che facciamo qua quanti spin 10 a miseria questi rimangono come 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 wild gesù cristo wild 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 qualcosa di serio facciamo qua eh vediamo un poco niente che sono tutte quelle lune che dobbiamo prendere wild qui ho più pallida idea la stanza dello studio abbiamo 7 lune 4 4 da una parte 7 da una parte wild wild 10 ne abbiamo qua 6 qua qualcosa qua facciamo secondo me eh ragazzi io spero almeno non voglio essere neanche tanto esagerato eh un paio di miliardi ho esagerato mi sa Mi sono esagerato A 50 milioni Un paio di miliardi sarebbero 40x Eh no no Non ho tanto esagerato Perché qua se facciamo i conti Sono 800 e 600 o 1.4 miliardi 1.4 miliardi Secondo me ha più di 2 miliardi Molto bene Ma poi non riesco a capire Queste qua sono 12 lune Perché ho collezionato 12 lune Boh non lo so Non ho più palletetea raga Tutte wild qua Qualcosa esce 14 Abbiamo altri Mamma mia Mamma mia Vedi qua 1.100 miliardi Jesus Christ 2 miliardi 3 miliardi Paghicchia per la miseria Paghicchia Arco cane Porca paletta Congratulazioni Però non ho capito Tutto quello è l'unico che abbiamo preso Non ho capito Collections 700 No eh Ma quanto abbiamo vinto Non ho capito Una sola abbiamo vinto 700 milioni abbiamo preso Non 4 miliardi Solo una Ne dovevamo scegliere Sembrava strano Raga Sembrava strano Sembrava strano Raga Sono 2 4 5 Ma allora quindi Non mi ha pagato niente Praticamente Io pensavo 2 miliardi Sei sforzato Sei sforzato Raga Ma che è Andiamo un attimo C'era pagata proprio niente C'era niente Però Qua abbiamo Abbiamo completato qualcosa E claim Allora 52 38 Ok Andiamo avanti Ah Qua non ho messo Lo spin ripetuto 500 Abbiamo già completato Aspetta un attimo Ok 20 milioni 59 punti Guadagna 23 milioni e 600 In 50 spin E che ci vuoi far guadagnare 23 milioni e 600 In 50 spin I giovanini Sono 3 Niente proprio Ma Non è successo nulla Andiamo un poco 1 miliardi e 6 Ok Abbiamo Abbiamo completato Anche qua Anche questa Abbiamo completato E ci prendiamo anche il bonus Mi sa Ok Livell up Ci abbiamo Ci abbiamo anche il martello Bene Vediamo se No Va bene Blazing Qua niente Qua niente Va bene Vediamo qua Guardi ce ne abbiamo due Collection 54 milioni 54 milioni Ce ne andiamo a prendere Ovviamente Ok Andiamo avanti Ok Andiamo avanti Voglio capire Poi arrivando Il pipistrello Qui Che dà Po Ah qua abbiamo preso 860 milioni Molto bene Perché abbiamo fatto Level up Sto bettando Diciamo a 50 milioni Comunque è un bet molto alto Non ve lo consiglio proprio Io lo sto facendo Perché Perché mi piace Bettare un po' alto Però alla fine Non ve lo consiglio Di bettare così 50 milioni A botte Con questo budget qui Questo budget qui Sarebbe ideale Intorno ai 20 25 milioni Neanche Poi se vedete Che non paga Prendete l'altra slot E cambiate proprio E poi ci ritornate Il giorno dopo Vedete che comunque Paga così Due Almeno Almeno si spera Riusciremo a prendere Un mini jackpot Minore non ci penso proprio Che poi Minore non è che paga tanto E raga Il mini paga 500 milioni Con 50 milioni Se ne impiega 10 x Il mini Attenzione 4 lune 5 lune Molto bene A miseria Urco canne Bella miseria Bella questa Eh raga Bella questa Quante lune Abbiamo A miseria Abbiamo 20 free spin Però 20 free spin Vinci tutti Quanti prezzi Prendiamo questo Ah Dobbiamo scegliere 20 Qua Non lo so Allora Vediamo un attimo Abbiamo 20 free spin Qua possiamo fare qualcosa di serio Le lune ci sono Ah se ne collezioniamo 20 Forse Ce le paga Boh Non saprei Raga 20 20 Sarebbero Sarebbe plausibile 20 qua 2 qua Qua stiamo Me lo avevo inquagriato 5 6 6 7 Vediamo un po' Se ci da qualcosa di utile La luna c'è La luna c'è Qui non c'è niente C'è solo una sola luna Qua una E qua tre Non abbiamo sufficiente lune Con 20 lune Qua abbiamo recuperato Abbiamo addirittura 4 qua 7 10 Stiamo Stiamo in media Di lune Qua niente lune Mannaggia Qua tre Qua uno Qua zero Va bene Stiamo al settimo spin Vediamo un poco Raga Qua due Molto bene Qua due Qua tre Vabbè ma qua Mamma mia Vedete questa luna qua Vedete qua Quanti ce ne stanno Gesù Griglia 500 milioni Però sono 12 19 9 Però qua che stiamo Un po' conguaiate Raga Qua ci sono un sacco di lune Raga Qua ci sono un sacco di lune Lune molto bene Lune molto bene Qua ci abbiamo 13 12 12 19 Stiamo andando bene Alla media di 20 Come dici con l'oro Che ci danno tutte 4 Ma Non saprei Qua tre Ci hanno dato Molto bene Qua zero Qua zero Qua zero Ma non c'è una miseria 11 Una ci sta Una ci sta Corolla Lì non ci sta niente 19 L'abbiamo qua Qua abbiamo completato 21 Qua l'abbiamo completato 21 Qua ci serve 20 Qua Ma qua Qua Raga ma Qua tre Eh meno male Questi tre qua mi servivano Qua tre 16 12 Eh ma qua stiamo Stiamo su questa Fase qua che stiamo un po' Arretrati di lune Annaccia la miseria Qua 19 20 23 23 ci siamo Qua ci manca l'ultima luna Qua Ma ce la dai l'ultima luna No Lo fa apposta Raga Per non ci pagare a noi Incredibile Vedete Wah Incredibile Wah qua Qua l'ultima luna Forse si sblocca L'ultima luna Qua abbiamo 5 spin C'è una cosa C'è una cosa incredibile Qua tre Bene Anzi quattro Molto bene Qua Qua abbiamo completato Qua abbiamo completato Qua ci manca una luna E qua altri tre lune forse Si ho capito bene Vediamo un attimo Una luna qui Una luna ci stanno Anche qui una luna Molto bene A magari Ci qualifichiamo Molto bene 18 Altre due lune mi servono Gesù Cristo A capo siamo Facciamo qualcosa di seria Vediamo un attimo Wah Cosa sarebbe buono 2 miliardi 4 miliardi 6 miliardi Ma però qua mi sembrano Anche due lune Raga Altre due lune Qua In questa schermata Altre due lune Mamma mia Ok Ok Due lune ce l'abbiamo In questa schermata qua Ma come regola Dovremmo prendere un po' tutto Praticamente Praticamente Perché abbiamo 20 lune 20 lune 30 lune Tutte lune abbiamo Cavolo Abbiamo tutte lune Ora ci dovrebbe pagare Benino ci dovrebbe pagare Eh ci paga quasi 3 6 3 6 No quasi 12 miliardi 10 miliardi Eh non è Non è poco Attenzione Casali Malamente Casali No allora non l'ho capito Ci ha dato 3 miliardi e 4 Ci ha dato Non riesco a capire Sinceramente Ci ha dato 3 miliardi e 4 Però Vediamo quanto ci ha dato 3 miliardi e 4 Vabbè Comunque qualcosa ci ha dato Qualcosa ci ha dato Carità Però Mi aspettavo 20 miliardi Mi aspettavo qualcosa di più 3 miliardi ci ha dato Non ho capito Non ho capito come l'ha calcolato Devo Dirci bene Comunque ha pagato Ha pagato benino 3 miliardi Non è Però io pensavo che Con 20 Avremmo preso 20 miliardi Invece no Invece no Comunque questo è un gioco divertente Non è male Ho preso Ho preso un massimivo Praticamente Un massimivo Non è stato male 3 miliardi 50 milioni 60 x 60 x È stato Non è stato proprio male Ovviamente Non paga il finire Vorrei arrivare qui Che cosa ci succede? Nulla praticamente Secondo me Nulla Vediamo un attimo Questo pipistello Però cammina piano piano Sembrano molte più lune Sì Cammino sempre lento Ok Ok 30 milioni Ok Ok Che vogliamo farci Comunque vi ringrazio Che comunque Stiamo oltre 100 100 Nel canale Siamo iscritti 100 persone Che mi seguite 100 iscritti Vi ringrazio Oramai siamo arrivati Oltre 100 Da un bel po' Da un bel po' Anche se sto cominciando sempre A fare sempre Video Cercare di fare più video possibili Anche proponendo Anche altri Anche altri giochi Specialmente Delle slot 3 2 5 Forse bonus No Nessun bonus Eh però siamo arrivati quasi Eh ora si ci siamo arrivati Raga Ci siamo arrivati Voglio vedere che cosa succede Ok 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 5 Ci da Non ci è dato niente Eh ci ha dato un miliardo e 100 Nulla di chi Però Ci ha dato un miliardo e 100 Praticamente Una con dentino Come lo dicono loro Ehm Che facciamo Vai Facciamo un altri Facciamo un altri 100 spin Raga Come vengono Vengono E vediamo E vediamo se ce lo da Se ci da i bonus bene Se no Lasciamo perdere Ok Vediamo se ci da Magari un fast jackpot Per vedere che cos'è Ma Tanto che ci da 500 milioni E vediamo se ce lo da E vediamo se ce lo da Ok 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 Abbiamo preso qualche Eh abbiamo preso la carta frenzi Che comunque ci da Ci da speranza 41 42 43 43 44 E la carta frenzi Niente Va bene Ok Abbiamo due l'una Niente Come volevo si dimostrare Ci ha pagato all'inizio Ovviamente non si ha pagato Più nulla 75 Poi dobbiamo prendere Anche questo bonus qua Cucina Praticamente Vediamo un po' Se Allora Qualcosa abbiamo preso qua Qua forse ce lo da il bonus No Si Abbiamo preso Già 450 milioni Nostri Ok Però qua che non riesco a capire Qua dice 10 free spin Seleziono una stanza Vinci tutte e quattro Irel Selezionando Più di questi Praticamente Ma io non Non riesco a capire Sinceramente Andiamo qua Boh Non lo so Non ho più Pallete Della Ma Non c'era proprio niente Secondo me Proprio nulla Nulla totale Come la vedo io 85 milioni Abbiamo preso Niente proprio Che cazzo 85 milioni Non ho capito Perché si è illuminato Qua Sono illuminate Queste cose qua Gialle No Sempre queste Però sempre gialle Sempre queste Boh Eh Questa ci dovrebbe pagare bene Questa qua Sì 660 milioni Almeno Recuperiamo Qualcosuccia Anche questa qua Qualcosa Dovrebbe pagare 786 milioni Questa è buona Questa è buona Questa è buona Questa è buonarella Però non è che Abbiamo un falare 869 milioni Magari un miliardo Lo prendiamo Forse Neanche Neanche forse Neanche 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 Ecco Un mila Decende Ok Che è successo Ah misera Abbiamo preso Tutto Questa volta Ah perché è uscito Il personaggino Praticamente Ah perché abbiamo fatto Più 25 qua Ma non lo so Non saprei Non saprei Perché mi ha dato 25 qua Comunque abbiamo preso Quattro maleati Un altro massimivo bonus Affanculo Ha chiesto Fantastico Fantastico Raga Fantastico Allora sai che vi dico Raga Eeeh Siccome già c'è dato Due massimivo bonus Io Mi fermo Perché oramai Questo secondo me Mo si chiude Eeeh Buonanotte Non le faccio neanche Questi pochi spin Anzi Tu sai quanto ne faccio Ne faccio giusto 10 20 Anzi 10 ah 10 Solo 10 Per vedere se paga Un altro poco o meno Ma non paga niente più Va bene così Dai raga Va benissimo Ci ha dato Ci ha dato due massimivo bonus In questa sezione Niente a farlo apposta Mi sembrava una stronzata Ditto vabbè ma Questo nuovo non ci ha pagato nulla Però oh Il cocane Eh Abbiamo siamo partiti benino Nota Un miliardo Un altro Due miliardi No tre miliardi Non dicevo Quei quattro miliardi Eh Oh E vedi qua Ci ha fatto salire 5 miliardi Mi è arrivato 12 miliardi Porca paletta Incavalata Porca paletta Molto bene Oh Voglio vedere un po' Questo cooking Friends Insieme a voi Per vedere un po' Com'è Che cos'è sto cooking Ma mi sa Devebbe essere Tipo quell'evento La cazzata Andiamo un attimo Va bene così Andiamoci a prendere Il cooking Oramai 12 miliardi E mezzo Ce l'abbiamo Li conserviamo Per la prossima sezione Qua ci prendiamo Altri soldi Ovviamente Collection per 4 Ok Anzi 720 milioni Molto bene Questi ci fanno comodo 720 milioni Ok Bene 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 Questo qua no Non ci fa comodo 13 miliardi E andiamo Che cos'è qua Collection All No ma questo Lasciamo perdere Andiamo Sul Cookie Fancy Questo qua Ok Qua dice welcome Ok Ah qua possiamo Prendere bei soldi Qua ci da 150 milioni Abbiamo 25 tiri Ah Questo ho capito Questo gioco qua Sì 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 Questo qua ci conviene Eh Mettemi 5 Collecio Cucina Cucina 75 milioni Ah Non è male Deve prese 75 milioni Senza fanini Ok Più 2 Perfetto Ora qua Dice di Eh Si deve questa qua Bene Qua praticamente Non abbiamo nulla Un nulla totale Un nulla totale Io di solito Compro questo qua Abbiamo 20 gettoni Prendiamo il massimo Che ci frega Tanto qua Tanto tanto la La roba In più Tanto la La rivende Quindi stiamo a posto C'è dato 2 4 3 1 2 Ok cucina Abbiamo risanato 75 milioni Ora ci dovrebbe pagare Pure altri soldi Altri 150 milioni Come regola Più Ci deve dare La vendita Vediamo un attimo Come regola Ok Tu hai vinto 150 milioni Ingredienti Altri 70 milioni Ok claim Ok 70 milioni Ingredienti Perfetto Altri 70 milioni Ingredienti Perché abbiamo Ingredienti in più Ovviamente E abbiamo anche La carta Frenzy Perfetto 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 Così si fanno i soldi Raga Allora andiamo avanti Ok Ok Quest'altra carta qua E quest'altra carta qua Ok Fatemi vedere Perfetto 13 miliard e 6 E non se ne parla più Raga Spero che comunque Questo video Vi possa comunque Piacere Continuatemi A A seguire E Vi ringrazio Vi ringrazio Di nuovo Un abbraccio Ciao a tutti Ciao